Abbiamo qui Canali in Canal, Influencer Veneto, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Dunque, Cittadella, secondo me, fino a poco tempo fa, mancava un po' di continuità, sicuramente. Adesso, salvo qualche sbavatura, secondo me ha trovato una sua identità. Gli manca un po' di nervo, diciamo, in vista dell'attacco. Scusate, scusate, perché mi sento un po' Mike Bongione, adesso che cos'hai lì? È un foglietto questo? No, no, non so, è Canali. Influencer Veneto, ti chiamo da due settimane e ti chiedo di venire ospiti in trasmissione. Signori, qui agli appunti, non è che tu hai una trasmissione adesso, no? Sembra che sono venuto qua solo per parlare della trasmissione. No, 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 se vuoi, però, se no, va bene, allora... Va bene, dai, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Radio Bella Monella, dalle 13 alle 14, sarò in onda, con Capita, col canale. Ecco, quindi non volevi parlarne, ma ne abbiamo parlato, perfetto. Mi hai costretto, mi hai costretto. Comunque, non vorrei andare troppo fuori tema, ma il Ternana male, comunque, eh. Ternana male, vero, ultimo. Ultimo, male, male. Ultimo, male.